La storia che raccontiamo è quella dell'azienda FOS di Battipaglia, il gruppo è il gruppo Prismian. Parliamo di una eccellenza nell'ambito della produzione industriale nel nostro paese e ancora una volta siamo costretti a parlare però di un paradosso, ovvero di un'eccellenza che spegne le luci. Quando è che avete cominciato a sentire che qualcosa non andava per il verso giusto in questo peficio? Allora è da premettere che noi fino a fine settembre lavoravamo a regime completo tutti gli operai in più avevamo un surplus di operai presi da interinali di 70 persone che lavoravano al nostro fianco. Questo fino a fine settembre. A metà ottobre ci arriva la convocazione in Comvindustria Salerno dove dicono che purtroppo c'erano dei cali di commesse che non c'erano più commesse per noi e quindi c'è stato un rallentamento del lavoro. Prima abbiamo iniziato con una cassa integrazione ordinaria al 50% lavorando in squadre ridotte per una decina di giorni, ciascuno praticamente. Questo fino a per un paio di mesi, dopodiché è arrivata la sentenza definitiva che l'azienda non vuole produrre più fibra ottica in Italia. Da premettere che noi siamo l'unica fabbrica che produce fibra ottica in Italia e di qualità. Questo è dovuto anche in parte a una scelta accelerata dei vari governi che si sono susseguiti nel corso degli anni perché noi attualmente, come chiunque può vedere, stanno installando fibra ottica dappertutto in tutta Italia ma la cosa grave, la cosa che ci fa rabbrividire, ma non perché ci lavoro io, ma non stiamo installando fibra italiana noi stiamo installando fibra coreana, asiatica, cinese, fibra di bassissima qualità noi paghiamo il fatto di fare la fibra buona e di qualità che purtroppo ha un costo che nessuno vuole prendersi. È possibile che il gruppo Prismian abbia individuato proprio in questa carenza normativa italiana un motivo per fare leva, diciamo così, oppure no? Si sono costruiti come pensiamo noi l'alibi perfetto, la Prismian si è costruita l'alibi perfetto perché non è solo questo il problema. Io lavoro in questa azienda dal 2001 e che io mi ricordo, ho fatto anche il RSU, sono dirigente sindacale che io mi ricordo non ha mai venduto tanta fibra in Italia noi non abbiamo mai venduto fibra in Italia, pochissima, pochissima cosa in Italia quindi ha trovato la scusa, come prima scusa questa, che il governo non ha messo nel bando la fibra 2 quella più, diciamo, di qualità perché produciamo noi ma soprattutto ha trovato la scusa dell'aumento della corrente elettrica l'aumento del gas, l'aumento di tutto per dichiarare che non vuole più produrre fibra in Italia forse gli fa più comodo comprarla anche alla Prismian in Cina, in Asia per poi poterla metterla nei propri cavi e nei propri, quello che il suo fabbisogno quindi noi dal 15 aprile partiremo con la cassa integrazione a zero ore praticamente per cessazione di attività che sarebbe la 234 come viene nominata e quindi abbiamo 12 mesi di cassa integrazione se in questi 12 mesi ci può essere l'inserimento di un probabile acquirente, un ipotetico acquirente questa cassa integrazione può essere cambiata in straordinaria per inizio di una nuova attività quindi può essere prorogata, può essere fatta dopodiché dopo i 12 mesi se non c'è nessun acquirente l'azienda già sta, diciamo, prospettando ai nostri rappresentanti un piano sociale praticamente, quindi di ricollocamento per le fabbriche che ci sono a Napoli che ci sono a Caserta però sono numeri che attualmente sono pochi soprattutto Napoli e Caserta che forse possono essere le sedi più appetibili per noi che stiamo qua perché comunque noi abbiamo una famiglia la maggior parte di noi ha un mutuo che paga già qua quindi non possiamo metterci un'altra spesa sulle spalle quindi per il momento i numeri sono bassi poi ci sarà l'incendio all'esero chi può andare in pensione, ma chi ha i requisiti per andare in pensione a occhio e croce, noi che ci conosciamo tutti, sono pochi quindi se non c'è anche in questo una mano del governo quindi per un'isopensione un poco più allargata penso che sarà basso il numero di chi possa andare in pensione la fibra ottica che noi produciamo è a garanzia di sicurezza soprattutto per le nostre infrastrutture, per la trasmissione dei dati non può essere hackerata facilmente come viene hackerata una fibra cinese, una fibra asiatica e questo proprio, noi abbiamo cablato tutta l'Australia in Australia c'è solo ed esclusivamente fibra battipagliese prodotta qua prodotta a battipaglia possibile che in Italia noi non riusciamo a installare la nostra fibra quello che facciamo noi quello che in Francia, per dirti, i nostri fratelli che hanno stesso gruppo Prismia stanno lavorando perché stanno lavorando? perché in Francia il governo ha garantito con le loro leggi di installare solo fibra francese e in questo i francesi hanno sempre il patriottismo cosa che in Italia noi non riusciamo ad avere in Italia si installa tutta la fibra del mondo tranne quella italiana che viene prodotta a battipaglia da un sito italiano e da lavoratori italiani che oggi sono costretti a stare qua davanti così dall'oggi al domani senza io sinceramente non so cosa dire ai miei figli io fino a ottobre mi chiamavano tutti i giorni a casa dovevo venire a fare pure straordinario dovevo venire a fare fine settembre dovevo venire a lavorare pure a fare straordinario da ottobre non si lavora più grazie a tutti grazie a tutti